Perché non hanno chiamato te a fare da management, fra l'altro ho la laurea specialistica che devo fare in management e quindi ste cose mi triggerano perché dovrebbe essere poi quello dove io lavoro proprio, proprio sono queste cose che mi, quelle con cui avrò che fare e mi fanno incazzare le persone che ci lavorano e non le sanno fare. Abbasso, abbasso. Ok. Giurista, è incostituzionale. Tanto sopra la costituzione c'è comunque il diritto comunitario, in ogni caso, eh, vacci piano. Solo perché tu fai giurisprudenza, eh, guarda che le so anch'io le mie cose. Tu sei grave, basta ora parlare di studio, lo so che vi sto davvero surclassando con la mia conoscenza, con le mie parole belle, complicate, sfarzose. Le cose luculliane, lo so, però, ora basta, è vero, è vero. Il cazzo col ciuffo, Gachibas. Il mercato Zulun. Ci ha detto la signora che vende i dolci ogni tipo di specialità. Mi stavo osservando, ma non vi aiuterò gratis. Facciamo l'enigma, se no non ci dà il pesce. Oh. Sei luculliane one more time, sempre. Un orologio. no 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 ah no forse no se scrivessi tutti i numeri da 1 a 120 quante volte comparirebbe il numero 1 ok live è finita ci vediamo alla prossima è la fine fiss ok man allora fish molly club si perchè almeno mi da il pesce ora se lo faccio se scrivessi tutti i numeri da 1 a 120 quante volte comparirebbe il numero 1 certi enigmi richiedono coraggio meglio pensarci con più attenzione no è sbagliato no 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 è sbagliato è sbagliato ragazzi no è sbagliato scusate adesso mi incazzo adesso mi incazzo scusate adesso mi incazzo quante volte compare il numero 1 il numero 1 esiste solo il numero 1 quante volte compare la cifra 1 allora c'è 1 c'è 10 c'è 11 c'è 12 c'è 13 è stupido questo enigma è effettivamente posto male perchè il numero è un numero la cifra è un'altra cosa sono due parole diverse che vogliono dire due cose diverse scusate eh quindi stavolta è infatti è tradotto male questo è un errore di adattamento questo è un errore di adattamento no perchè mi trollate è vero è vero ma da cosa da il mio cazzo da di 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 1 2 3 no 1 10 11 12 13 14 15 16 17 18 siamo a 10 19 21 siamo a 12 31 41 51 61 71 81 91 101 ma fa 30 abbiamo poi 2 2 possiamo 6 passiamo al 20 20 20 ma 21 perché 101 contaЗ 모�ce 2 volte quindi 21 21 Hai 21 329 punto 3 103 104 102 103 103 104 104 104 105 pleased 105 106 107 108 109 sono altri 8 quindi 29 29 29 minchia mi lasciate fa ridere 29 29 sono arrivato a 109 110 31 111 34 31 più 3 34 112 36 113 38 114 40 115 42 116 44 117 46 118 48 119 50 120 51 121 53 è ora di affidarsi alla creatività zitti 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 200 qui 200 qui wow lei astuto manuto manuto perché sei caduto in un astuto allora ti sei sparuto e adesso chiedi lo spartuto volete guardare le parti del corvo che ansia vi mostrare la via che conduce al mercato non è le parti del corvo non posso darvi altro se non darvi un indizio questa medaglia vi aiuterà nella ricerca una medaglia indovina anche sbagliando ma è giusto l'ho contati uno a uno buona fortuna ciao questo pezzo sembra l'ala di un uccello capisco quindi ci devi essere altrimenti adesso qui la prima di altre parti di un uccello questa basta che trova uccelli ed è contenta ah ricomponete il mio corpo giusto ha senso ha senso ah quindi dobbiamo parlare con tutti no medaglia è rimasta ma me le da la gente no vabbè parliamo con sti tizio posso farti qualche domanda con quel capello me ne puoi fare quanto ne vuole ok altro metodo di rimorchio con la tuba ciao forehead ma alla fine sto corvo torvo chi era eh non lo so ma un po' di jean claude giusto per eh ci vuole il personaggio giusto una medaglia con corvo no non ne sappiamo niente è una doppia negazione non ne sappiamo proprio niente è una doppia negazione quanto è stato adattato male questo gioco no perché in italiano la doppia negazione comunque nega non è come in inglese o in latino quanto è stato adattato male questo gioco non ne so niente singola affermazione per noi è fondamentale trovare questa medaglia va bene sulle linee diciamoglielo e basta niente di una medaglia con la coda ah la coda eh non ho mai detto che c'era la coda un trucco vecchissimo farmi parlare finchè non mi tradisco no è che sei stupido controllate l'ombrello appuntito dov'era quell'ombrello? no 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 non lo ricordo devo toccare un po' il combrello ok miau miau vabbè qua andiamo a cercare l'ombrello no aspetta prima devo anche parlare con la vecchia megera vedo no niente che seccatura che stress un lungo un lungagnone cos'è un lungagnone? deve dare un messaggio per le due quattro mani speciale con le cose significhi ah ci deve dare un messaggio però sta cercando noi io non vedo ombrelli però cos'è com'è che può aumentare la velocità sul DS? ve l'ho detto è la prima versione del DS la prima l'hai messa in commercio aveva questa feature la prima ma solo il primo DS della prima versione se è qualcosa del mercato nero dobbiamo risolvere Enigma meglio meglio questa qui non ho più mosse aiuto ecco qui sette menati monete se ne tocchi una con lo stilo la capovolgi riesci toccando una sola delle monete a fare in modo che il numero totale di test e croci sia esattamente lo stesso 1,2,3,4,5,1,2 il numero di test e croci deve essere lo stesso fare in modo che il numero totale menati monca X è auguri esatto auguri anche esattamente esattamente auguri all'Oilix è vero besonotte 03 scusate il ritardo auguri all'Oilix auguri 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 allora ah ok come avevo fatto prima ah no però non posso spostarla 1,2,3,1,2,3 ades certi enigmi richiedono coraggio ah ragazzi 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 però era stupido questa cosa perché non vedo perché posso spostarlo e dopo girarlo però non posso prima girarlo e dopo spostarlo questo gioco mi sta facendo sclerare oggi hai tenuto azione rosso ma stai zitto dato che ho promesso una volta raccolto le medaglie la porta si aprirà è diventato Kino Mars grazie per gli Edze Club grazie 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 Edze Club c'è altro tocca a voi scoprire ah pensavo dovessi toccare con lo stile continueremo la ricerca potete trovare una medaglia in un luogo che piace ai corvi un luogo elevato come un comignolo lo so che si dice comignolo state buoni se dovete mercato nero farete male potete venire un sacco di sole pepega allora dobbiamo trovare un comignolo comignolo vieni qui eh il topo di merda che mi dà le gigamedaglie e qua posso andare avanti ci siamo andati e parla male bootface non sa leggere dobbiamo trovare sto cazzo di comignolo eccole là forse vuoi avere il comignolo in cui parlava il ragazzo che braccia lunghissime però ma che stupidata questa cosa ma che cosa stupida ma no che stupida questa cosa beh una signora deve avere le sue mestruazioni con doveri finito prima sto facendo le commissioni sto cercando qualcosa sì il mercato nero le posso dare ma prima l'enigma mister fantastico ma infatti mi stalleri aiuto qua così sai via te al volo easy easy te fatto risolto mai enigma fu più semplice di questo eh ads è ora di affidarsi alla creatività tutto a caso un gentiluomo risolve ogni enigma ma qual'era la consegna ma 200 qui ecco cosa vuol dire avere un 200 di qui ecco cosa vuol dire grazie per i ads e per i pog ragazzi che noia questi giochi per bambini deformi che noia si trova da qualche parte in questa zona tratto giochi antichi sì vabbè non si può sentire senza giusti credenziali vabbè le monete progetti di valore come questo ah me l'ha data lui la medaglia quella che cercate quindi prendetela ora abbiamo tre medaglie devo trovare un ombrello esatto esattamente easy easy ads abbiamo trovato tutto e rangiamo la zona nord dai cazzi ma sono carico per una cazzi ma sono carico bambini deformi pepega sono a nord scusa qual è il nord se non quello o l'altro ah forse devo parlare con il tizio beso con il cazzo con i capelli no che si frega di zia taffi abbassi come cosa abbassi è ancora il volume perché lo è questa signora qua vediamo se ci apre il passaggio vi ho detto che non ne so niente dovete per forza essere così fa fastidio sei sicuro sicuro ah è un uomo come avete fatto ah beh se avete raccolto le medaglie ho un altro paio di cazzi una noia infinita ma vi dirò non prima che abbiate risolto il mio enigma 60 piccarati almeno 35 noi vogliamo zia lia ma infatti o no devi sistemare queste medaglie in modo che compongano la forma di un corvo ma non capisco com'è fatto anche i numeri in pietra vanno sistemati nel posto giù this is crazy allora just a moment please just a moment let me ho sbagliato so let me sbagliare e imparare from my mistakes tsaea tsaea tsa 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 no tsa 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 vabbè ma è una cazzata in verità ok no se non fosse che ho sfanculato la coda merda in culo satana wait it's not working just a moment please ecco qua it wasn't working in un buon momento con la sorri ok ok questo qua era facile questo qua era facile zero logica e come lo spieghi questo? ne vedevano usare il capo come per indire le persone le aste ah just a moment it's not working dovete entrare al mercato usate quella asca va bene easy cos'è che rumore mefisto felico il mercato nero è da questa parte c'è una luce più avanti non avanti vabbè soldi grazie soldi grazie soldi no basta ma che mappetta piccola e questo è un signore di tutto rispetto ma la moglie un figlio a casa ma non voglio perdermi le aste bravo non guadagno abbastanza per comprare tutte le cose che vorrei forse devo andare a casa sicuro che la sua famiglia farebbe piacere rivederla ho schipato scusate perché ha tempo di andare in una caverna a comprare cose inutili piuttosto che andarsene a casa sì non c'è peggior soldi di chi non vuole sentire andiamo no ok addicted moncamega ludopatico cos'è maschera triste per la collezione che ansia fischi mole qui dentro è buio pesto un attimo lì c'è qualcuno il signore del pesto il cerusico corvo torvo corvo torvo corvo storto corvo malorbo corvo orbo andiamo da corvo orbo il cerusico ma qualche voce le sue dati di enigmista sono eccezionali ma un bambino le voce sul suo conto devono essere vere bene cosa volete fama droga e un flauto e un flauto so che di recente ne è stato venduto uno forse è così e forse no perché dovrei dirmelo Gohan beh forse se lo facessi non mi sentirei in dovere di svelare la tua vera identità ahia Leighton sa già sarebbe però stato più bello se lo facessi non mi sentirei in dovere di picchiarti però cosa? ma Leighton sa tutto davvero signor Leighton? lo ripeta la sfida ripeterlo non dovresti essere sorpreso soprattutto visto che ci siamo già parlati prima con tutti voi che dissing l'avevo detto io che erano più di uno l'avevo detto io che erano più di uno scusate ragazzi se sono troppo intelligente ma vuoi davvero correre questo rischio? ti prometto che non dirò niente se ci aiuti ma come fa a sapere? allora te va a cercare cosa succede? ma cosa? sei davanti a me e lo stai vedendo cosa accade il corvo torvo ha commesso un errore elementare come così sembra ma quale? mostrandosi in nascondenza alla vista dava l'impressione di teletrasportarsi si muoveva a una velocità incredibile chiaramente doveva esserci sotto qualcosa no? ma c'erano più persone vestite uguali dai è un velocista olimpionico a poteri paranormali ci deve essere un trucco siccome è un velocista olimpionico per essere così rapido deve essere un velocista olimpionico ah no pensavo fosse la risposta giusta allora mi sa che c'è il trucco cos'è sono ste domande da ritardati sarà mica volte penso tu abbia ragione nessuno è così rapido ci deve essere un qualche trucco quale pensi che fosse c'era più di una persona dieci anni by the way ma infatti c'erano tanti corvi che indossavano lo stesso costume ma sì ma era ovvio ho detto anch'io ho intervisto una cosa dentro il mantello eh questo io non lo posso vedere caramelle lecca lecca e l'oogie boogie anche avi era molto rapido vero uno di quelli è il gusto panna e lampone che vende zia teffi aspetti sta dicendo che non è un adulto beh c'ha la voce da infante grazie esattamente come sappiamo zia teffi vende le sue caramelle solo ai bimbi allora i corvi torvi sono dei bambini esatto si tratta dei bambini che ci hanno guidati al mercato nero ah questo non avevo capito però ah già cazzo è vero quanti indizi che c'erano su questa cosa non l'ho capito è vero c'ha ragione e qui è uno di loro cioè in verità si l'avevo capito ragazzi era ovvio è 200 qui faccio finta umf sturbo enigma risolto cazzo no e il cerusico sappiamo chi è si ma i vostri scopi a me mancano cosa fa what ah è stato eh aniki che ci ha indicato dov'è la moneta ricordate che aniki fa anche questo ovvio che faccio finta io mi chiamo crow e appunto corvo sono il capo della banda del corvo storpio nel segreto se non rivelassi niente ai clienti certamente sai qualcosa di un antico flauto mmm ma dei vaghi ricordi seguitemi ah nikigachibas pronto? si vabbè la stanza del male spinto terribile c'è una sega teniamo dettagli ma mi sento di considerare di stare alla larga da quella villa eh ve l'avevo detto che quella villa sarebbe stata un punto importante per la trama so tutto e per la strega no sai di cosa sai di cosa sto parlando allora devi essere di qui la figlia di Evan Bard è maledetta chiunque parli male di lei finisce col pentirsene ma anche tu ne stai parlando male è lei che conduce la pista quindi ci dobbiamo andare conduce la pista ma come parla? vuol dire conduce la pista ok andremo verso colè che ci maledice ci dai un qualche enigma no? niente ci chiede se andremo davvero alla villa e allora andiamo via e allora ci andiamo è una tvoia è una tvoia perché fa le macumbe comunque è una strega contraria a Let's Beach è a nord della città sul lato posto è a nord e l'hai quindi quella casa in cima alla collina eh esatto sei da lontana te la senti Luke si dobbiamo dare informazioni sulla strega lungo la strada già può essere si sa che non è una cosa di attacchi la città non è molto danneggiata merito di green per aiutare che usare sul sole per aiutare la gente non va d'accordo con mio padre ma mi stalleri forse dovremmo provare a partagli dove possiamo trovare taverna di peddi facciamo più che direzione ok ma peddington nell'orsetto è quello che intendi dire io sto seguendo la freccia non mi credo dove è la taverna di peddi qua usate se sbadio ragazzi sono un po' stanchino scusatemi il signor green pre-presumo mi devo mettere anche un po' avanti con la sedia sennò divento gobbo much better much much better con un capello così immagino che possa permettersi di fare molto più che presumare ma basta con ste cose sono green cosa vuole e io sono brown e se già vi rispondono alcune domande è un poliziotto 8 quello è il giovane triton salve sei figlio dell'uomo che mi ha spompinato come va piccoletto naso naso dantesco si esatto signor green ascolti non abbiamo niente da dirci mi lasci in pace penso che dovremmo andare forse arriva un uomo dopo ma che schifo quest'uomo un uomo rivoltante insomma spompicosa niente niente non ho detto niente e allora si va ma non c'è è tipo un cancello che bloccava la strada prendi il megaglione bravo un coglione di volte bisogna fare siamo quasi arrivati il territorio della strega eh perché tu cosa pensi oh cazzi no cazzi scusate ragazzi non è che mi annoio davvero sono solo molto 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 stanco il castello della strega ma in questo leiton tutti strafatti as fuck infatti vedete quando mai mi avete visto appollaiato così sulla sedia queste le linee delle case qui sono enormi sembra essere una zona piuttosto enorme la stazione di polizia è enorme il sito archeologico è da quella enorme parte sicuramente utile avere un look enorme vero? senza altro ok dammi i soldi give me the money appollaiato ma sì che sono appollaiato dimmi tutto uomino dal capello bollo ho trovato delle ricerche sulla legge all'ospedale di qualcosa interessante questo famoso se avessi esistito solo per proteggere la città e se qualcuno avesse fatto qualcosa per fargli perdere le staffe il caso è che voi campagnoli siete persone superstiziose ci si può fidare solo di macchine e computer come come questi orologi no 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 è pure 55 ragazzi è la fine no no è la fine è la fine almeno dato che nell'arco delle 24 ore ci sono orari particolari come le 0111 in cui la stessa cifra si ripete tre volte di seguito si stoppa Layton per sempre questa è la disfatta del re questa è la grande sconfitta del re quale di questi anche perché ormai se li salto mi mettete i dance game quindi quale di questi orari speciali genera l'angolo misurato in senso orario dalla lancetta delle ore verso quella dei minuti più ampio di tutti gli orari in cui il cui angolo contiene il 12 vanno esclusi puoi escludere gli orari compiti da 0.00 e 0.09 perché il loro angolo è nullo molto stretto cioè in pratica lui vuole sapere ok se noi abbiamo porca troia se noi abbiamo la lancetta delle ore qua a un minuto e la lancetta dei minuti qua queste sono le ore questi sono i minuti ok la lancetta farà il giro più grande qua ed è escluso il 12 il crollo dell'armata perduta del re cambise autistico sono confuso spiegaci di The Weird chiede qual è l'orario che fa l'angolo così più largo si quindi sono le dal 0.01 cioè tra 0.001 e 23.59 però come faccio a mettere qua aia si è fatto male a un'unghia come faccio a mettere qua 0.001 non capisco allora 1.11 scusa allora è 1.11 ah deve avere tre cifre uguali deve avere tre cifre uguali ho capito allora non è 1.11 e 2333 what non avevo capito che doveva avere tre cifre uguali l'armata perduta del re cambise è una canzone di Murubutu artista che devi provare a sentire se non l'ha anche rifare mazic ho tutti i dischi là sopra di Murubutu ce li ho tutti i dischi lo ascolto su Spotify ma ho comunque comprato anche i suoi dischi per dargli altri soldi perché li merita ce li ho tutti i suoi dischi tranquillo e allora 1.11 no 2.22 è piccolissimo 3.33 è piccolissimo 6.66 quindi è 5.55 per forza rimane solo quello per forza proviamo così questo enigma non fa per me cosa vuol dire per forza anche io ero già pronto per i congliedzi wait a moment sorry it's not working just one moment allora 1.11 20 le 20 e 22 ad esempio 20 e 22 ad esempio perché 5.55 è dritto dobbiamo fare in modo che 5.55 5.55 è qua ed è il perfetto è la perfetta metà quindi dobbiamo fare in modo che sia più della metà devono essere tre cifre ah però di seguito quindi 0.66 4.44 4 4 no 3.33 2.22 non è 10 non è 10 5.55 è impossibile il 12 non dovrebbe essere compreso quindi 15.55 a cazzo è vero sì per forza per forza per forza vediamo se ho arra 5.55 svastiche orlosse proprio quello che lo rende un modello di alta classe lo capirei quando sarei più grande ma a medici o a Luke grazie per gli ads e clap cosa fosse un borno sonnacchioso ora c'è un gigante che attreverizza tutti che razza di trusso è questa quindi lei ha visto lo spettro se avessi visto se avessi visto se avessi stato eccitato o qualsiasi ci ha fatto ma qua ecco io è la stessa zona due a due volte come i fulmini ma non è vero fare di fulmini non mi sembra che possano farlo in verità mi sembra che cerchi qualcosa magari ha perso un fratello ma cosa dice il fratello di una mia amica è nove volte più alto di lei ma non dire orologi is the new sonic guarda che vista guarda che luna questa è la piazza del grande monte bruna è molto graziosa l'assù cosa c'è quella è la droga villa barde poco oltre una città ricca di canali che vanta anche una diga non manca certo la peculiarità di scalculo ha la testa uof ma un po' tutti hanno la testa deforme questo qua si casa si vede una farfalla è diventato un cane cosa c'è quel lavoro lì ecco il robo monte che bruno ho visto roba infatti soldi 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 beatissimi soldi ma c'è erano mio padre è capo della polizia ci farà fare molto più di comunque all'occo quindi fatti meglio portarmi rispetto va bene coglione eccola la diga la vediamo dalla mappa super diga super water la polizia grazie a polizia al commissario yikes la polizia di mischalleri la migliore del paese non sfugge non sfugge mai niente fidatevi va bene minchia che stanchezza ragazzi scusatemi tantissimo scherzi da cavaliere cosa qualche anno fa c'è stato un gran caos alla villa alcuni teppisti hanno pensato bene mentre fanno una gara di corsi non sono delle vecchie armature come per ora è caduto e così l'elmo si è ammaccato ok il cuore di te ha danneggiato l'armatura non è A perché il bernoccolo è dalla parte opposta non credo sia C perché mi sembra troppo basso mi sembra sia C no perché è troppo basso ah mi sa che è B perché ha il cappello strappato schiacciato come se ci fosse entrato con il cappello c'è un ognomo ma che è being gnomed certi enigmi richiedono coraggio ha un lucano a posto del naso ed è D ma non so perché o era B o era D ha un bernocco in testa proprio incurisimento della macchina sull'elevo non sto usando la mano per coprirlo bella cagata il C e P P O cos'è risolto il caos non ne va neppure indagare mi chiedo però se si è accogliato con il pop poveraccio senta non è affar mio li lasci crepare grazie per gli ad però non aveva senso questo qua ragazzi non aveva il minimo senso ancora ancora è sempre lui e questo orribile aspetto che puzza si si io ho un caso aperto dai dacci le enigme bravo Dema bravo questi ritratti sono cinque generazioni della stessa bella famiglia ogni generazione è in comune con la successiva un unico tratto somatico dispone i ritratti nell'ordine corretto questo e questo per le sopracciglia questo e questo per gli occhi questo e questo per le sopracciglia ah no devono avere solo una cosa in comune qua la bocca non va bene magari non è ah no il primo è fisso il primo è fisso tutti con la stessa malattia terminale la famiglia di dicklet allora mi sto devastando un'unghia mi sto facendo malissimo il primo allora le sopracciglia il naso gli occhi potrebbe avere in comune con qualcuno solo gli occhi sopracciglia no occhi naso ok si questo è giusto ora qui deve avere in comune o gli occhi o la bocca o il naso o le sopracciglia questo no sicuro questo che ha in comune solo gli occhi no anche il naso però ah no gli occhi no solo il naso solo il naso tra questo e quello dopo hanno in comune solo la bocca e questi due dopo le sopracciglia è giusto me lo sento edz l'igma e olè si ritorna al lavoro bel naso veri bel nose i nose tocco io però tocco perché non si sa mai oh che bello sto posto sembra DLC di dark souls sapete quello dove c'è anche quello in copertina non mi viene il nome allora la posta arriva le barche di scalmo dove vuoi quando vuoi ci sia se lo scalmo scriverlo o un o un enigma per lei tocca i pannelli finché non saranno tutti nel verso giusto certi enigmi richiedono coraggio ahhh ecco perché sbadiglio perché questo gioco è troppo facile col numero minimo di mosse 200 qui ragazzi voi siete lì a dire a caso a caso siete lì a invidiarmi ragazzi lo so che fa schifo vedere uno con 200 qui fare queste cose però lo so ragazzi che vi fa male perché vorreste saperle fare anche voi lo so mi ho alcuni su cui sto lavorando bla 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 e qua nient'altro ok allora andiamo avanti per il cammino che bello sto posto che porta gigante deve essere così che l'acqua viene incomodata in città sapete cos'è quella porta secondo me verrà visto a fine gioco secondo me che lo spettro è tipo un robot e viene fatto entrare in città passando da sta porta secondo me viene tenuto fuori dalla città e viene portato fuori attraverso quella porta viene portato dentro attraverso quella porta ti invidiamo pepega ecco qua gli attrezzi che uso se mi sento esausto prendo uno di questi affari e mi posso masturbare no non mi serve per massaggiarmi la schiena la gigi di cui parlo mi aiuta a far filare la mia barchetta quando sono stanco sai come è una certa età quindi la gente fa quel che può per aiutarsi c'è in pratica un coso che permette di far andare la barca quando lui è stanco non fa niente la A ah no la A è uno è uno suraccess esatto non vedo come nessuno di questi strumenti gli possa dare una mano a andare a far andare la barca da sola Allora Incominciamo a escludere Io scluderei A e C Perché A non mi sembra assolutamente Un cotton fioc Cioè un cotton fioc E non mi sembra assolutamente Come faccio a dare una mano C è una Cosetto della lattina gigante Che poi è pure bucata Scusatemi La E è strana La E è strana Si la ha un cotton fioc Sta pensando Pog La E ha qualcosa di strano Sembra una bolla La bolla è quella per vedere se una cosa è dritta B, D e Cosa userei io per fare Potrebbe essere che mette B E la muove stando seduto comodo E un po' si ripara Un po' si rilassa Anche io ho pensato che c'entrasse la foca Nella immagine Però pensarci bene effettivamente Non avrebbe senso Spero tu possa perdonare la mia insolenza Ma mi sono dimenticato della live Ci vediamo alla fiumara Ci vediamo alla fiumara Grazie Dema Grazie mille Dema Grazie per i cento Grazie per i cento Gentilissimo Grazie Grazie Olenor Vabbè metto D perché mi sembra la cosa che abbia più senso Cioè sta fermo e muove solo le braccia Cioè B non ha alcun senso E è qualcosa di strano Quindi per forza E Certi enigmi richiedono coraggio Allora è B Però non ho capito come Lo aggancio alle due barche Chi si è visto si è visto Scusate ho anche colpito il microfono Che palle sti enigmi Che cazzate Le cazzate Non ha senso Guardate lo definirei un po' Eh sì Villa Barney cima di scale Tutto fatto Tutto Tutto Sì comunque sto pezzo è abbastanza spooky Viene Addentriamoci allora Il mulino non va Sì ma è tantissimo Casa di una strega Un peccato vedere questi terreni così Trascurati In effetti siamo il luogo perfetto dove piantare i fiori Questo è un dirizioso Siamo piuttosto una giungla Dobbiamo farci stare attraverso la giungla Uh cosa è 50 siamo obbligati Belli questi Ma che senso Allora regalo il remo a uno che rema per me Ma non ha senso no infatti Gunther Spooky scary skeletons Eh ma manca un mese Passare su tutte le piattaforme del giardino Seguendo le serie Da 1 a 8 Eh Allora seguendole tutte Quindi partiamo da questa 1 2 3 4 5 6 7 8 What? 1 2 3 4 6 7 8 1 2 3 5 6 7 8 Minchia quanto è difficile Quanto è difficile Devi seguire le serie da 1 a 8 Senza incrociare mai con quelle già fatte Immaginavo si Partiamo dal fondo Qua questo 8 va qua E questo 8 va qua 7, 6 Ora abbiamo 5 4, 3, 2, 1 8, 7, 6, 5 4, 3, 2, 1 8, 7, 6, 5 Sì, sembra funzionare Facciamo così giusto Passiamo di qua 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 Ok Intanto andiamo di qua Non posso Eh no Eh no però qua mi blocco Ah già 5, 4, 3, 2, 1 8, 7, 6, 5, 4, 3 5, 4, 3, 2, 1 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 2, 3 Fa un culo la merda Parti dalla fine Sono partito dalla fine Ma è un bordello Minchia ragazzi Allora 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 Perché qua poi rimane vuota questa parte No Cioè allora Deve di fare 8, 7, 6 Poi sinistra Posso dire 8, 7, 6 No c'è il 3 Non posso A meno che faccio 8, 7, 6, 5, 4, 3 2, 1 8, 3, 2, 1 Ok E di qua sono partito Ora però come faccio questi? 1 E questi? Parto da qua Faccio questo giro No No Faccio il giro di qua Faccio il giro di qua Boom L'ho fatto Easy L'ho fatto Allora 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 1, 2, 3 4, 5, 6, 7, 8 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Certi enigmi richiedono coraggio Sì Adoro trovare la risposta 50 puliti 50 puliti Edz 50 puliti Edz Oh si va Aspetti mi sono impigliati i capelli Minchia Buccacche sui suoi capelli Sto bene Questo giardino Un incubo per i capelli Tuttavia non abbiamo tempo Di soffermarci Sui tuoi fottuti capelli Questa è la classica parte di Leighton Dove per andare di volta in volta avanti Bisogna fare un Enigma obbligatorio Grazie per gli edz Grazie per gli edz Certo che qualcuno ci vive Credo C'è una faccia Vero C'è una figura C'è un'ombra Cosa c'è? Nulla Raggiungiamo l'ingresso Ma io Ma si è vista Ma dirlo agli altri no? Si bussa Che posto inquietante Beh sembra che non ci sia nessuno in casa Vero professore? Aspetta Amy Sono certo di aver visto qualcuno affacciato a una delle finestre del piano di su The Witch Cosa? Così il tutto è ancora più inquietante Si la musica Mette ansissimo E se questa strega della sventura fosse un fantasma? Amy dietro di te Si certo Luke Non ci casco ti avverto Ma cos'è? Perché c'è Mosè e non c'è una cazzi? Che fastidio E voi giovanotti cosa volete? Ma il puffo Il grande puffo Mi perdoni signore Mi chiamo Herschel Leighton Ah Gacibus Dietro di te Monca è sto dito Arianna è in casa? Ma magari Lodo E a voi? Cos'è in porta? Ma chi è sto qui? Stiamo indagando sullo spettro Ma chi è Arianna? Che ti sembra amico? Sono il giardiniere Henry La padrone non ha alcun interesse A incontrare gentaglia come voi Che c'è Arianna? Chi è mia? Chi è Arianna? Solo a me quell'uomo è sembrato strano? No Strano è dir poco Il giardino è un disastro Sebbene Henry dovrebbe occuparsene Che non sappia fare il suo lavoro? Ma cosa dice? Così? Lui presume cose Tutti i domestici del signor Bard Sono stati licenziati Dopo la sua morte Quindi Quell'impostore Tiene Arianna in ostaggio Immagino Pepe Pegadito Tu hai stato ignomato Eh sì anche lui è vero È l'ignomo È l'ignomo Cosa facciamo signor Layton? Ha ignomato Amy Gli è comparso dietro Tu hai stato ignomato Amy Facciamo il giro Facciamo Unita Poi vedo Potremmo stare da questa torre E poi usare la passerella in cima Una ragazza potrebbe essere Inberi sul dovere Di gentiluomo Certo che no Andiamo Forza 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 Leon 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 Si va Vediamo se qua qualcuno ha colto La città di Leon 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 Che schifo Via Blè Viscido Proprio come TM Et voilà Non si ne vede la cima E allora sali E non fiatare Branca 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 Leon Leon Questo torre deve essere Una torre di guai Perché se sia così Ma non è andata Da fuori Se me la potessimo Raggiungere Da qui 412 4123 C'è un candele 4123 Sì 4 numeri E una fiamma 4123 4123 E basta Non c'è altro Ah attenzione Ah ma è nascosto Non sarà niente Arte di valore Un uomo ricco Ha stata l'amitudine Di appendere i quadri in casa In modo tale Che il valore degli stessi Sia evidente Due quadri nel settore 1 Hanno un valore totale Di 2 milioni Ok Nel settore 2 Il valore ammonta 6 milioni A quanti milioni ammonta Nel settore 3 9 Bella cazzata Questo Bella proprio Bella Oddio che bello La tuba Il dito Che bella Bello zio Zio diritto Bella questa Complimenti Per la copypasta Ecco le candele Pensa che ci sia una relazione Tra queste torce Il disegno Una situazione Molto acuta Ma si Era ovvio Torce una cosa Ok 4123 Quindi 4 1 2 Ho fatto in ordine Ma dai Si Ho sentito un rumore Andiamo Ma era ovvio Ma che cazzate Eccolo Professore Questo passaggio Non c'era Si va Che bello L'ambientazione Mi piace un botto Ragazzi Tuba Di Tino 200 qui C'è qualcosa Di strano La stagione Una specie Di enigma Ok Si va Se la tua cifrata 4123 Oddio Cos'è Quello ti puoi vedere Per esempio I numeri corretti A destra C'è una leggenda A destra Sono ricavate A destra C'è una leggenda Sono riportate Delle operazioni In base a cui Ricavare Quale numero Fra quelli complisi Fra 1 e 9 Corrisponde A ciascun simbolo Ah ho capito Ok 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 Questo è per forza Quindi ho 4 o 9 Perché questo è 2 per 2 O 3 per 3 Non può essere 4 per 4 In poi Perché sarebbero 2 cifre Quindi il fiore è o 4 oppure 9 Vediamo se combacia Facciamo l'esempio con 3 3 per 3 9 3 per 9 E' uguale 27 E' uguale 27 E' uguale 27 E' uguale 27 Questo varrebbe 7 Per la luna Che non si sa E' uguale al cerchio Per il triangolo rovesciato What? Ok Un numero che non abbiamo ancora usato 4 7 per 4 7 per 4 uguale a 28 Ma non può essere Perché il 2 è già stato usato 7 per 5 Fa 35 No 6 6 per 7 fa 42 No 7 per 7 No 7 per 8 56 Ci può stare La luna sarebbe 8 E il triangolo 6 Proviamo così Cioè ragazzi Mamma mia Mamma mia ragazzi Cioè Ma c'è Che noia Eh sì Quanto Che noia Edz Il re Ragazzi Il re Edz Eh non lo possono fermare il re Non lo possono fermare Dai 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 Non potete Questa villa è normal Yannan vive davvero da sola? Ai 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 Poi se che ci sia dei fantasmi Andiamo avanti Cosa c'è sul muro? La sborra Una fotografia di Arianna Ma che cazzo è Arianna? Chi è il ragazzino nella foto? Tony Capuozzo E dov'è adesso? Non saprei Neanche Di lui vi traccia forse con Arianna È un altro enigma così? L'interno della villa è coperto di polvere Ci sono addirittura delle ragnatele Non c'è neanche pensare I ragni Un enigma Ok un enigma sui ragni Un ragno ha tessuto una tela intricata Non è vero Quando la sua preda rimane impigliata in A Il ragno comincia ad avvicinarsi ad essa Passando dal filo 2 o 5 Perché? Per raggiungere una preda in B Il ragno passa dal filo 1 o 2 Perché mai? Wow Ok per andare in A Passa da 2 o 5 Per andare in B Passa da 1 o 2 Ah ok è una cazzata È una cazzata Guardate Per andare in A Passa da Abbiamo detto 2 o 5 Vedete? Perché 1 o 2 Cioè è come se fossero Vedete le Le continuazioni In un certo senso Quindi per andare in A Ovviamente passa da 2 o 5 Anche se vabbè Non combacia proprio Quindi in C In teoria dovrebbe passare per 2 e 3 O 2 e 4 Allora 2 e 4 Esatto Esatto Mamma mia ragazzi Mamma mia Mamma mia Che noia essere così superiori alla media Come grandezza del cazzo Come intelligenza Come grandezza del cazzo La mia unica diavolozza deve essere Perfettamente a suo agio Proprio così Io vivo nelle ragnatele Proprio così Ok Si può andare ovunque? Sì Destra Ma sono troppo facili? No è che sono io che sono troppo avanti Ci sono giochi sparsi ovunque Mi chiedo a chi li abbia lasciati qui Che sia Rihanna? Chi è Rihanna? Gli userebbe Harry il giardiniere? Non credo Su questa macchinina c'è un nome Tony Quindi dov'è questo Tony? Forse è uscito per qualche motivo Basta che mi dai i soldi Questa sembra la stanza di Arianna Siamo pronti Prontissimi Arianna Ah Cazzin 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 Ehi la Puttana E' finito il tempo delle mele Puttana Come avete fatto a entrare? Chi siete? E io Il mio nome è Hershel Layton Spero di non averti spaventato Non voglio farti del male E siete intorno a casa mia per dimmi che non mi volete fare del male? So che siamo un paradosso Ma c'è un motivo preciso per cui me la faccio addosso Possiamo farti una qualche domanda? O no? Tutte in rosso? Siete brevi? Scusa ma non posso Il geniere ti tiene segregata E' lui che ti ha rinchiuso qui dentro In questo posto Che cosa? Henry lavora qui Non so di cosa stai parlando Lo smetto Lo smetto Mi spiace abbiamo commesso un errore Quanto pare siamo giunti a conclusione affrettata Va bene ora andatevene per favore Cercheremo il flauto dello spettro altrove Ora che lui ha detto il flauto dello spettro State a vedere che lei si triggera Ragazzi è di una banalità Però sto Leighton Questo Leighton finora non riesce assolutamente a stupirmi Ma è Fran Bavo Oddio è vero Assomigliamo a un casino a Fran Vero Evan Bard è tuo padre L'ha acquistato a mercato nero Pensiamo che lo spettro possa essere stato invocato da qualcuno Stiamo raccogliendo quanti più infuzioni Vabbè Invocare uno spettro con un flauto? Haha Ridicolo Predicted Pog Grazie grazie Un'altra volta che lo spettro è comparso abbiamo udito distintamente un udito Con il mio dito Siamo certi che tra i due ci sia un collegamento Infatti si tocca al mento Scusate ragazzi ma continuo a fare dei giochi di parole Non so nulla a proposito di questo flauto Ora se non mi dispiace vorrei che me ne andaste Un momento La vita di molte persone potrebbe dipendere da ciò che ci dirai Cazzi Io sono una strega Porto disgrazia a coloro che mi circondano Sì vabbè Dai Droppa la farsa Dai Se restate qui una disgrazia colpirà anche voi Rap god Ma di cosa stai parlando? Luke Ma che cazzo stai a dio Abburina Andate Acquatta Perché ti comporti così? Arianna sappiamo entrambi che non sei una strega A fu finì Accorcia cazzi Cosa? Un attimo Voi due vi conoscete? What? Gli occhi e io eravamo amici Prima che accadesse tutto questo Siamo ancora amici Io non penso che tu sia una strega Ega ega Gli adulti parlano sempre di cose noiosissime Non ti pare? Ah è vero cazzi Non fanno che discute di politica Oppure del tempo Ega ega Pepe ega Si scopa? Così? Wow Già Incredibile vero? Wow Guardare le stelle Mi ricorda di non prendere le cose troppo sul serio Cosa vuol dire? A volte il mondo può sembrare così grande E spaventoso Lo so E se ci pensi Noi siamo davvero piccoli Pipi hop Forse io e te possiamo diventare amici Che ne pensi? Sputa Certo io sono Luke Luke Triton Pipi hop Hai visto Luke? Wow Quale desiderio hai espresso? Smettila di triggerare la chat Chat fuori controllo perché viene triggerata Arianna tu non sei una strega Smettila di dire così Luke Wow enabled Pipi hop enabled Sono maledetta Ma la smettiamo? C'è gente ragione a temermi Sì vabbè è arrivato low low Sono maledetto Ogni persona l'ho distrutta Arianna Vattene via 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 Vattene via Via nella mia città Che sta succedendo qui? Come avete fatto voi piccioni a entrare? È la polizia Signorina Arianna sta bene? Fuori Tutti voi Prima che chiami i vostri genitori Tanto Luke non li ha Non li ha mai sin andare Luke Venite Andiamo Non direi sciocchezza Dopotutto anche se io ho sperso il medesimo giudizio Tuttavia mi chiedo perché l'atteggiamento di Arianna sia stato così ostile Cosa sai di Arianna? Arianna è malata Cosa mi sembrava stesse bene La situazione più complicata di quanto sembra Torniamo indietro e discutiamone What? What you mean? What you mean? Vabbè Che casino Intanto mi tolgo qua le spunte Cioè i punti Sono qui Chiamo i genitori di Leighton Esatto Tipo 99 anni hanno Vostro figlio Ha fatto irruzione nella camera della mia bambina Che fra l'altro è importantissimo Ok Bene ragazzi Bene Lo stoppo qua perché Sapete che le stoppo l'una Questa è una cosa che fa